Ma adesso entriamo con il prossimo speaker scientificamente dentro questa questione. Cercheremo di capire, ci verrà spiegato, se ci sono e quali sono i modelli di trattamento delle acque e dei rifiuti solidi urbani per lo sviluppo della bioeconomia e delle bioraffinerie. A raccontarcelo sarà Francesco Valentino che è ricercatore all'Università di Ca' Foscari, è docente in due corsi di laurea magistrale in biotecnologie per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile proprio qui a Treviso e attualmente è impegnato in diversi progetti in ambito europeo e nazionale, coordinatore di un progetto sulla tematica dell'idrogeno verde. Qualcuno sa che cos'è l'idrogeno verde? Se non lo sappiamo adesso lo scopriremo. Grazie. 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 Grazie a spiegare i concetti base secondo me che ognuno di voi dovrebbe capire appunto nella quotidianità e applicare anche per la salvaguardia ambientale. risorsa idrica in primis, rifiuti urbani ovviamente, vediamo un po' quali possono essere i diversi approcci nell'ambito della ricerca che noi proponiamo nei corsi e nelle tesi di laurea e ovviamente anche nei progetti. con qualche esempio ovviamente di economia circolare e di prodotti applicati. Ciclo naturale dell'acqua lo sapete meglio di me perché siete più freschi, studiate scienze anche voi, ma io non parlo del ciclo naturale dell'acqua, parlo del ciclo urbano che è totalmente diverso. Allora, il ciclo urbano che cosa vuol dire? Andare a prendere acqua che l'ambiente ci fornisce, utilizzarla e produrre rifiuto perché ogni azione che voi fate produce rifiuto. Che fine fa quel rifiuto? Non è che lo potete sversare così tal quale sull'ambiente perché ha bisogno di essere restituito nei corpi idrici con determinati criteri che non vadano ad intaccare l'ambiente stesso. Quindi il nostro obiettivo si inserisce nel quello che viene chiamato wastewater treatment, quindi il trattamento delle acque per restituirle all'ambiente così come le abbiamo prese. Allora, come funzionano? Questo come viene fatto? Viene fatto all'interno di alcuni impianti di depurazione. Non vado più avanti, non lo so perché. Ecco, qui. Seguitemi. Posso immaginare che sia un po' complicato. Diciamo che qual è il destino delle acque che noi utilizziamo nelle abitazioni, ma soprattutto anche nelle aziende vicino agli ambienti urbani? Di solito vanno a finire in fognatura e dalla fognatura su impianti si dicono centralizzati. Noi come università non ci mettiamo di certo a gestire impianti centralizzati, ma è come se fossimo dei consulenti, quelli che vanno a spiegare ad aziende ormai esperte nel trattamento acque come restituire l'acqua all'ambiente. Gli impianti centralizzati di solito sono in località fuori le città. Qui a Treviso è immerso nel parco del fiume Sile, per esempio, quindi siamo in mezzo al verde. L'obiettivo è rimuovere tutta la parte contaminante all'interno dell'acqua, restituirla sul fiume Sile completamente pulita. Senza virus, senza patogeni, senza sostanze organiche, anche azoto e fosforo che potrebbero comportare la crescita di alghe e quindi stravolgere un po' il sistema stesso del fiume. Quindi l'obiettivo è quello, ma c'è un problema. Tutte queste azioni producono un rifiuto che si chiamano fanghi di depurazione, lo vedete nella figura in basso. E i fanghi di depurazione non dappertutto sono utilizzati nella maniera propria, perché è di fatto un rifiuto e dobbiamo smaltirlo nella maniera giusta. Ora, siccome noi abbiamo un po' di esperienza con i processi biologici, abbiamo visto che per determinate caratteristiche questi fanghi sono dei fertilizzanti, perché hanno nutrienti all'interno, quindi in alcune circostanze possono essere utilizzati sul suolo, ma attenzione alla presenza dei metalli pesanti, quindi non è una cosa così scontata. L'altro approccio sicuramente migliore è la produzione del biogas, quindi biogas che serve per l'energia elettrica, quindi essenzialmente metano, almeno il biogas è costituito da metano, almeno al 50-60%. E quindi l'approccio migliore, assolutamente migliore, è quello che vedete in blu è identificata la linea acque, quello quindi che fa un impianto centralizzato, cioè restituisce l'acqua pulita all'ambiente. In verde si chiama linea fanghi, cioè gli impianti dotati di linea fanghi sono quelli che prelevano il rifiuto e lo trasformano in energia, la linea in giallo. Ci sono diverse opzioni, diciamo di solito gli impianti più avanzati producono energia elettrica, perché è quella che per le aziende ha un maggior profitto rispetto alle altre opzioni. Come faccio comunque a produrre energia elettrica, quindi innanzitutto metano, a partire da questo rifiuto, da questi fanghi di depurazione. Allora questo è un sistema abbastanza all'avanguardia, dico abbastanza perché noi stiamo cercando di studiare approcci ancora più innovativi di questo, ma non è applicato in tutti gli impianti di trattamento, assolutamente no. A parte che molte municipalizzate non hanno neanche gli impianti di trattamento, quindi questo è un altro problema, che sicuramente non rende sostenibile un centro urbanizzato. Come si fa il biogas? Si fa con i cosiddetti digestori anaerobici, lo vedete in foto. Il digestore anaerobico non è nient'altro che un bioreattore, chiamiamolo, dove all'interno ovviamente esistono tutta una serie di microorganismi che noi analizziamo e che sono specializzati, ognuno di questi, per fare una cosa. E come prodotto finale abbiamo appunto il metano, una parte di questo. Ora, adesso la slide successiva potrebbe sembrarvi difficile, io la spiego passo passo, ovviamente a lezione, ma di certo non pretendo che la capiate in questo momento, non avete ancora gli strumenti, poi se venite nei nostri corsi sarò più che contento. Cosa fanno i microorganismi? Partono da tutto un rifiuto indifferenziato, quindi questi fanghi che possono contenere proteine, grassi, carboidrati di diverso peso molecolare, fino ad arrivare al composto finale, il biogas, che è semplicemente una miscela di anidride carbonica e metano. Metano può essere intorno a un 50% anche di più. Questo è qualcosa di noto, qualcosa di, diciamo, i digestori anaerobici anche in Veneto, in tutto il nord Italia, ma diciamo che in Europa sono abbastanza comuni, non stiamo parlando di niente di nuovo, è una tecnologia che c'è. C'è però un difetto, diciamo, legato a digestori anaerobici che lavorano solo su questo substrato, cioè sui fanghi che derivano dalla depurazione delle acque. Il difetto principale è essenzialmente il contenuto di proteine, lo vedete lì? I fanghi hanno un contenuto di proteine che possono andare da un 30 al 40%. Perché questo è un difetto? Perché le proteine non sono così biodegradabili, come può essere, per esempio, uno zucchero, un carboidrato. Di conseguenza, il biogas che ne viene fuori, diciamo, in termini impropri, non è così tanto come ci si aspetterebbe. Quindi qual è il problema? Che se io devo riscaldare un digestore per mantenere i miei microrganismi all'interno alla temperatura ottimale, che è tra i 35 e i 40 gradi, in alcuni casi anche i 50, e però biogas ne faccio poco a causa di questa presenza di proteine elevata, è chiaro che non è detto che il costo sia, diciamo, l'analisi dei costi-benefici per le aziende sia buona, sia sostenibile. Quindi, di conseguenza, cosa si è pensato? Ecco perché l'università. Ci si ingegna un attimo. Perché non miscelare i fanghi, che purtroppo sono prodotti in grandissime quantità? Perché ogni volta che voi aprite il rubinetto, o vi fate una doccia più lunga del solito, quella è tutta acqua che va a finire sugli impianti e che produce poi i fanghi alla fine. Quindi i fanghi ci sono. Anche se noi siamo responsabili in ogni azione, ci sono. Ma per produrre più biogas, come faccio? Cerchiamo di miscelare i fanghi stessi di depurazione con altri rifiuti. Ve ne viene in mente uno? L'umido di casa, per dire. Allora, voi fate la raccolta differenziata? Sì, ovviamente. Allora, quello è un rifiuto sicuramente con caratteristiche di biodegradabilità estremamente più alte rispetto ai fanghi. E quindi perché non miscelare i rifiuti insieme? Siamo partiti proprio dalle basi, cioè dalla ricerca in laboratorio. Vediamo, facciamo più biogas? È migliore il biogas che si produce? Vediamo, l'università deve fare questo, deve trovare soluzioni a sostegno del territorio e dell'ambiente. E questo è stato fatto, grazie ovviamente a che cosa? A un territorio circostante che ci aiuta, perché se tu sei all'interno di una municipalità che non fa raccolta differenziata, la vedo dura. Però Treviso ci aiuta. Questa è la mappa un po' che vi fa vedere come la raccolta differenziata in Italia si è evoluta fino al 2019, adesso è ancora meglio. E perché questo incontra perfettamente gli obiettivi della Circular Economy? Perché un rifiuto di maggior qualità, quindi maggiormente differenziato alla fonte, cioè se voi lo separate bene, può essere più valorizzato. Cioè ci facilitate il lavoro. E credetemi che non è cosa da poco. Allora, l'area di Treviso è la prima provincia in Italia per raccolta differenziata. Siamo nel territorio migliore a livello nazionale. Qui la raccolta differenziata è più alta rispetto a tutti gli altri comuni, quindi continuate, grazie, perché il vostro è un sostegno importantissimo. Se io allora vado a prendere l'umido che producete voi a casa, lo miscelo con i fanghi, vi ho detto, siamo partiti dal laboratorio per arrivare ad un'applicazione vera e propria. E questo è appunto successo. Quindi partendo, diciamo, da esperimenti di base, diciamo, l'azienda che si occupa qui, ATS adesso, la municipalizzata per il trattamento acque, ha deciso di creare un accordo con Contarina, azienda che chiaramente fa raccolta differenziata, per miscelare i due rifiuti. Perché questo? Per andare a, diciamo, creare una componente organica più putrescibile, più biodegradabile e per fare molto più biogas di prima. Questo vuol dire maggior produzione di biogas, maggiore energia prodotta, anche maggior beneficio economico per l'azienda stessa. Il comune, in questo caso, sostiene questo tipo di applicazioni, perché la base è la responsabilità del cittadino. L'università non viaggia se non c'è una coscienza sotto. Quindi, diciamo che è tutto abbastanza concatenato. Quindi, chiaramente, ovviamente nel 2019 siamo riusciti un po' a gettare le basi per successive pubblicazioni, questa è la prima, e vi spiega proprio come in marrone, diciamo, in marrone è stata implementata la linea fanghi. Quindi non soltanto più fanghi di depurazione, ma anche rifiuto organico che proveniva dalla raccolta differenziata. Più biogas, più energia elettrica, approccio chiaramente sostenibile. Dopodiché, visto che questo approccio è già stabilito in scala industriale, c'è un impianto che lo fa, ovviamente abbiamo pensato a come migliorarlo. Ci sono degli aspetti che possono portare ad un miglioramento sostanziale dell'approccio, perché magari uno si poteva anche accontentare già così, ma siccome noi siamo accademici, studiamo e quindi cerchiamo di capire quali possono essere ancora delle migliorie da poter effettuare sul processo stesso che va a portare metano alla fine. Allora, questo è possibile, ovviamente non entro troppo nel dettaglio, ma ve lo spiego molto molto sommariamente, se il processo stesso di digestione anaerobica viene diviso in due. Perché viene diviso in due? Perché la digestione anaerobica non è nient'altro che una cooperazione di microorganismi che fanno lavori diversi. E se io faccio una separazione anche fisica su questi microorganismi, io posso ottenere dei benefit maggiori sia dall'uno che dall'altro. Quindi, conoscendo la microbiologia di base, noi abbiamo cercato di creare quelle opportunità in più che magari una digestione anaerobica tradizionale non ci dava. Su questo devo dire che ci stiamo ancora lavorando, ma qualcosa abbiamo fatto. Quindi, cosa abbiamo fatto poi di per sé a livello pratico? Separare tutta la prima fase che di digestione, ripeto, non vi spiego i dettagli, che va a produrre più l'idrogeno e stiamo parlando adesso di idrogeno verde, con altri substrati organici importantissimi, gli acidi organici che vediamo dopo, da una seconda fase solo specializzata sul metano. Quindi, si divide il processo. Si divide sulla base di cosa? Della microbiologia che c'è dietro il processo. Allora, perché questo ci interessava? Perché l'idrogeno in realtà è un fuel molto appetibile da un punto di vista diciamo ambientale, non ha sottoprodotti a parte l'acqua e può essere utilizzato in alcune miscele con il metano anche come autotrazione nel settore dell'autotrazione. Quindi, è un benefit aggiuntivo rispetto alla sola energia elettrica che il metano ci dà. E, di conseguenza, c'è anche tutta una serie di composti, gli acidi organici che vedete qui in basso, che un digestore singolo, singolo stadio, non produce, perché quello va solo a metano. quindi, dividendo il processo io vado a differenziare il tipo di prodotto e i benefit che posso ottenere da cosa? Da un rifiuto di partenza. Ora, l'idrogeno, diciamo, prodotto nella prima fase, diciamo, chiamiamola di fermentazione, può arrivare a un 40-50%, miscelato con il metano alla fine andiamo verso percentuali un po' più basse. 10%, 20%, 30%, è sufficiente? Assolutamente sì. Per il settore dell'autotrazione è più che sufficiente. Quindi, questo è un altro esempio di applicazione di una tecnologia che noi abbiamo ormai sviscerato negli ultimi anni e che può apportare una miglioria sostanziale al solo utilizzo del metano proprio nei trasporti dell'autotrazione. Diciamo che è un po' uno schema molto, molto, molto descrittivo. Noi abbiamo anche degli impianti pilota dove abbiamo effettuato proprio questa ricerca di base. Alcuni brevetti sono stati anche prodotti, quindi la tecnologia c'è. Non è ancora stabilita come la digestione anaerobica, ma speriamo che avvenga abbastanza rapidamente. Quello che però vi ho detto prima è che in questo, nel reattore F1, quello di fermentazione, perché si chiama fermentazione? Perché oltre a produrre l'idrogeno, fermenta e produce acidi. E gli acidi sono una serie di molecole piccole, un peso molecolare abbastanza ridotto, molto importanti per la chimica di sintesi, perché ci fate qualsiasi cosa da lì. E se le possiamo ricavare dal rifiuto, piuttosto che da fonti fossili, tanto meglio. Che cosa abbiamo fatto noi? Gli abbiamo utilizzati, no, prima, per produrre questi pH, se vedete, si chiamano polidrossi alcanoati, sono polimeri, sono polimeri, plastica, totalmente biodegradabile, sintetizzata, non da noi, da alcuni ceppi microbici, per fare proprio questo materiale. Ci sono anche alcune foto che dopo ve lo farò vedere. Allora, diciamo che ci sono alcuni vantaggi, ovviamente, nell'utilizzare questi materiali per fare i polimeri, ovvio, perché se il polimero in questo caso viene sintetizzato dal microorganismo, è un lavoro quindi che fa il microorganismo, non lo faccio io, sarà biodegradabile, quindi avrà un tempo di vita più o meno duraturo sulla base di alcuni additivi che si possono utilizzare, poi però verrà, diciamo, rilasciato nell'ambiente, senza alcun danno ambientale ed è un approccio estremamente circolare. Voi siete partiti da un rifiuto e il polimero stesso rigenererà, diciamo, verrà a restituire lo stesso carbonio nei comparti ambientali dopo il suo utilizzo. Quindi, ancora una volta la stessa raccolta differenziata che era utile per il biogas lo sarà ancora di più se può sostenere la sintesi di acidi e quindi di polimero. Il polimero si fa con un processo diciamo totalmente biologico perché noi studiamo i processi biologici. Ad oggi ce ne sono diverse tipologie di processi. Noi siamo più specializzati sulla prima, processi di tipo aerobici, quindi biomasse, microrganismi che hanno bisogno di aria per crescere. Però ci sono alcuni microrganismi che non hanno bisogno di aria ma di luce e questo è un altro approccio che investigheremo a breve per capire anche la tipologia, le differenze tra l'uno e l'altro. Praticamente lo schema a blocchi è riportato qui quindi si parte appunto dai fanghi dall'umido uno stadio di fermentazione che produce acidi e un successivo stadio di sintesi di questa plastica biodegradabile. La chiamo sarebbe più propriamente chiamata biopolimero ma la chiamo plastica per farvi capire. Questa è solo una foto diciamo di alcuni microrganismi irresponsabili lo vedete in giallo sono quei microrganismi con il polimero all'interno. Questo polimero viene sintetizzato dentro la parete cellulare fino a che praticamente la biomassa cresce cresce in peso e a un certo punto potrebbe essere praticamente estratto e utilizzato dopo vediamo come. Quindi praticamente la questione è andare a prendere i rifiuti separati introdurli all'interno di un processo totalmente biologico fare del materiale che sia utile nella quotidianità. L'obiettivo è questo. Che cosa ci abbiamo fatto con questo materiale? Beh, di sicuro l'abbiamo testato un po', vedete la tecnica del blow molding è quella che produce le pellicole quindi dal rifiuto alla pellicola biodegradabile dal rifiuto alle maniglie questa è un'applicazione diciamo che ci siamo un po' inventati alla fine per capire se effettivamente le maniglie flessibili quelle per trasportare cartoni potessero essere un'applicazione tipo di questi biopolimeri oltre alle pellicole per imballaggi gli imballaggi ovviamente sono un settore che richiede tanto materiale l'unico problema lì siamo nell'ambito della normativa perché bisogna utilizzare imballaggi con una certa proprietà ma che vengono sempre da un rifiuto quindi bisogna fare attenzione a livello di contaminanti interno quindi qui ci deve aiutare la normativa per capire se siamo nella direzione giusta o meno quindi noi diciamo dobbiamo dare delle soluzioni pratiche alla fine risolvere dei problemi i rifiuti sono una risorsa quindi nell'approccio dell'economia circolare è un qualcosa che non se ne può fare a meno sono prodotti quotidianamente sempre dall'azione di ognuno di noi quindi noi dobbiamo trovare un destino diverso rispetto al semplice smaltimento per chi volesse visitarci anche da studenti adibiamo adesso i nuovi laboratori al campus scientifico di Mestre ma soprattutto nel polo di Treviso c'è anche un'area pilota e proprio adibita a questa tipologia di ricerche qui nel parco del fiume Sile io avrei concluso e ringrazio voi grazie grazie Grazie.